Erano le 10 e 12 del 28 maggio 1974 quando in piazza della loggia a Brescia, cuore del dibattito politico della città, durante una manifestazione antifascista indetta dai sindacati, una bomba provocò la morte di otto persone e il ferimento di altre cento. Da quel giorno i magistrati bresciani non hanno mai smesso ad indagare per individuare la mano che pose l'ordigno e l'ultimo processo scaturito dalla terza inchiesta riguarda un gruppo di ex ordinovisti veneti già coinvolti ma poi usciti di scena nei procedimenti sulle stragi milanesi di Piazza Fontana e della Questura e il generale Francesco Delfino, il primo a indagare sull'eccidio quando era capo del nucleo operativo dei carabinieri. Fu proprio Delfino a indirizzare le prime indagini su un gruppo di neofascisti e di balordi bresciani imputati nel primo processo. La Corte d'Assise d'Appello ha però assolto oggi Carlo Maria Maggi, Delfo Zorzi, Maurizio Tremonte e il generale dei carabinieri Francesco Delfino nel quarto processo per la strage del 1974. In primo grado, il 16 novembre 2010, i quattro erano stati assolti con formula dubitativa. La lettura della sentenza ha raggelato i parenti delle vittime presenti in aula che l'hanno accolta a toniti, incapaci di pronunciare una parola. Parole affidate al presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime, Maglio Milani, che non ha nascosto la sua profonda amarezza sia per l'esito del processo, sia per la condanna delle parti civili appellanti al pagamento delle spese processuali, come previsto dalla legge. 38 anni dopo siamo di fronte ad un'ennesima sconfitta della speranza di giustizia, anche se purtroppo il tempo ha annullato tutta una serie di verità che diversamente avrebbero potuto essere affermate in precedenza. Questo fa perdere senso di appartenenza alle istituzioni. Davvero è un momento in cui è difficile riconoscersi dentro di loro, anche se non posso assolutamente negare che soprattutto i pubblici ministeri abbiano fatto ciò che hanno potuto. Si sono incontrati, hanno incontrato delle grossissime difficoltà e soprattutto direi una non volontà di partecipare attivamente al disvelamento di questa verità. Quindi ormai il tema giudiziario io credo che per Piazzarogia sia concluso. Occorre fare uno sforzo perché le istituzioni democratiche riprendano in mano il senso della storia e ci dicono finalmente che cosa ha significato per la storia di questo paese quegli anni terribili dello stregismo.